Ciao a tutti, oggi in questo giorno particolare, primo maggio, festa dei lavoratori, e in questo periodo particolare ho deciso di suonarvi alcuni brani di repertori pianistiche, ad esempio notturno, opera 9 numero 2, celebre notturno di Chopin, oppure adesso va bene, poi magari lo continuiamo, non posso suonarvi, che ne so, chiano di luna, opera 27 numero 2 di vetroga, bellissimo primo tempo, secondo tempo terzo tempo è quello velocissimo pure per esempio un altro pezzo, un altro pezzo molto bello, può essere, che ne so, un tre e mezzo di brani, opera 117, molto molto bello, molto particolare tanti altri brani si possono fare, però oggi ho accettato di partecipare a questo challenge per il silenzio come testimonianza per il lavoro dei musicisti, con questo piccolo gioco sempre per ricordare che la musica non è un lavoro fare musicista, suonare dal vivo, non è un lavoro qualunque ma è il lavoro per gli altri dunque è un lavoro, ancora più lavoro, se vogliamo e spero che dopo questo periodo così orrendo ci sia un reset, anche nella gestione di tutte le attività di musica dal vivo di tutte le attività culturali di base, soprattutto che comprende i codi, i musicisti che fanno musica classica anche di settore che da troppo tempo sono completamente abbandonati a se stessi dunque permettetemi questo piccolo giochino finale un preguido di balca bello, eh? buon primo maggio a tutti grazie